ben ritrovati cari amici da stiloso oggi parliamo di una penna della carandasche una penna non più in produzione ma una penna molto interessante a mio avviso che vale la pena comunque proporvi che voglio comunque proporvi allora il modello è dunas come dicevamo prima ormai da qualche anno è stata sostituita dalla 849 stilografica come modello base della casa elvetica qual è la particolarità di questa penna che innanzitutto delle forme abbastanza inconsuete nel senso che è una forma esagonale l'esagono che un po diciamo il mantra della casa svizzera che però sul sul fondo diventa tondo quindi una ricerca abbastanza particolare delle forme da parte di carandasche la sommità del cappuccio riporta il marchio carandasche la clip come la clip è parecchio parecchio rigida ma cos'è la parte veramente interessante di questa penna che non la fece comprare diverso tempo addietro il gruppo scrittura perché andiamo un po a vedere da vicino com'è questo gruppo scrittura eccoci qua con il pennino mi ricorda qualcosa questo pennino ma la faccio breve è lo stesso pennino montato sulla sorellona maggiore la e cridor pena però di ben altro lignaggio nel frattempo sono cambiati alcuni dettagli come il logo del brand carandasche che adesso è diventato un semplice esagono anche il l'alimentatore è leggermente diverso ma parliamo di differenze minime quindi è lo stesso gruppo scrittura della e cridor una penna che costa molto molto di più il la sezione come vedete sulla cridor metallica qui plastica da diametro anche un pochino maggiore quindi si prende un pochino meglio questa penna qui io non l'ho fatto ma penso che dipendenti siano facilmente intercambiabili quindi quanto costava questa pena questa pena costava circa 70 euro e la motivazione del prezzo può essere dato dal fatto che come dicevo gruppo scrittura e di qualità identica quella della e cridor penso sempre un boc numero 5 è però migliore rispetto a questo dalla carandasche 849 che l'ha sostituito un pelino di forma geometria completamente diversa ok quindi ecco spiegato il motivo del costo a mio viso leggermente superiore i materiali come sono i materiali non sono il massimo della vita soprattutto cosa non è il massimo della vita il cappuccio che è un cappuccio di plastica stampata abbastanza misero e anche la clip è abbastanza misero il fusto invece è metallico è metallico adesso non saprei dirvi probabilmente rivestito da un po di resina però è abbastanza pesante e l'incastro è metallo su plastica quindi insomma non il massimo della vita fate attenzione se ne trovate un modello a controllare che questo anellino non sia troppo eroso perché questo anellino è quello che fa sì che la penna si possa chiudere quindi attenzione a questo anellino abbiamo detto caricata con caveco blu eccolo qua il caveco blu caveco blu un blu abbastanza come dire tranquillo niente di che non mi fa impazzire questo blu guardatelo in confronto con un blu che mi piace molto come il private reserve di super show oppure il blu velvet quindi a cosa assomiglia questo caveco blu assomiglia al pelican però è un po più chiaro e forse assomiglia un po al waterman ecco adesso fate prendere non al florida non al presidential ecco qua diciamo vicino al waterman serenity blue però forse serenity blue ha un pochino più di carattere rispetto a questo caveco blu che mi pare va più o meno un pelicano ma andiamo a vedere un pochino come scrive questa penna iniziando dalla carta comune da fotocoppie stiamo scrivendo con una carandacee modello dunas il pennino è un fine è stata una piccola incitazione ma perché siamo veramente bassi come l'inchiostro l'inchiostro è il caveco blu anche qua ci ho avuto una piccola incertezza vediamo un po la continuità di flusso la continuità di flusso è ottima scrittura reverse no scrittura reverse non la faremo buonissima continuità di flusso della penna andiamo un pochino a vedere come va qua su questa carta un pochino più preciata bella andiamo a fare con close up allora carandace dunas fine devo dire che è un bel pennino l'inchiostro caveco blu in cartuccia vediamo un pochino la continuità del tratto che ottima andiamo a vedere se inchiostra questa pena oppure no si flusso direi buono molto buono ok quindi questo gruppo scrittura è veramente interessante vediamo qua la scrittura reverse diventa diventa quasi quasi illegibile non utilizzabile come il pennino è morbido che è un pennino morbido che restituisce un discreto attito di scrittura niente di eccezionale ma parliamo sempre di un fine e devo dire che è una penna che ha i suoi punti di pregio e i suoi punti di difetto che andiamo a vedere subito allora quali sono i pro di questa penna e quali sono i contro perché ci sono dei pro molto interessanti e dei contro altrettanto pesanti allora il contro principale è sicuramente la clip una clip veramente proprio economica poi non a molla insomma collata lì la clip non mi piace per niente il cappuccio materiali 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 sono abbastanza economici soprattutto quelli del cappuccio una plastica veramente brutta materiali e cappuccio un altro contro calza a fatica eh sì perché la penna ha un buonissimo bilanciamento ma vedete calza però tende un po' a perdersi quindi per me questo è un contro perché le penne generalmente soprattutto se non sono tanto grandi mi piace che calzi tra i pro penino ottimo adesso lasciate perdere che prima ha fatto un paio di false partenze ma perché siamo a livelli di inchiostro veramente un po' bassi e della ferma da un po' ma il penino ottimo dopo tutto è quello delle credor che come abbiamo visto è uno dei punti di forza sebbene sia un penino piccolo un penino non in house un penino tutto però è un ottimo gruppo scrittura tra i pro direi anche il buon bilanciamento la penna è ben bilanciata si tiene bene in mano anche per mani grandi come la mia va bene anche senza cappuccio buon bilanciamento questi sono le cose principali poi ci può discutere tipo discutere di cosa del look il look allora c'è stato diciamo un piccolo sforzo di fare qualcosa di diverso con questo esagono che va a restremarsi diventando un tubo alla fine però insomma non lo griderei al miracolo ecco nel complesso la penna non è eccezionale ecco del cappuccio un'altra cosa per cui non mi piace e che vedete a questo gioco qua questa cosa non disturba un po' non è che mi fa però quindi è una pena che vi consiglio se trovate sul mercato dell'usato a un buon prezzo ossia la metà di quello che era venduta al pubblico ecco perché può essere un buonissima modo per capire se ci piace il gruppo scrittura delle credore infatti prima di prendere le credore ho comprato questa ho avuto la fortuna di trovare un ottimo esemplare un prezzo ottimo e non me ne sono affatto pentito perché una penna che scrive bene un bel fine con un buonissimo flusso però ecco vedete questa cosa qui non è il massimo non è il massimo della vita quindi si come prova generale per l'ecridor si anche per eventuali trapianti tutti da verificare però sull'ecridor e quindi fa sempre parte un po' di quelle penne che si compra per cosa per la scrittura o per il look e questa è una penna che si compra secondo me per la scrittura quindi sono sono le penne le penne belle le penne italiane oppure le nibs pen le penne le penne chiamiamole così che si comprano per le qualità del pennino ecco questa si compra si compra per il pennino non si compra per l'estetica bene spero di essere stati utili iscrivetevi al canale fatemi sapere se anche voi avete mai avuto per le mani una di queste dunas qualcuna nuova se ne trova ancora ma veramente molto poche iscrivetevi al canale mettete mi piace aiutateci insomma un grande abbraccio e alla prossima da stivorso